Cosa farete la notte di Capodanno? Avete già un programma? Cena a casa, in famiglia, con gli amici e poi uscire forse in centro. Ah ecco, andate a vedere qualche concerto? No, non credo, semmai a giro per i locali, ma niente di che. Capodanno, non lo sappiamo, siamo in Francia, parliamo italiano, parliamo italiano. Siamo di Francia, siamo di Uruguay, di Canadà, viviamo in Montpellier, è Capodanno, siamo qua, improvvisiamo in Italia, non sappiamo dove. Casa, tra amici. Più tranquille. Sì, sì, tranquille. Oh, vado con gli amici, esco con gli amici. Di città? Sì. Non ci sarà un po' troppo casino? Forse. Ma vuoi andare a vedere un concerto? C'è già qualche idea, visto che ce ne sono tanti? No, no, no. Cosa faccio? Vado a una festa qui a Firenze. Quindi in casa, non in centro? No, diciamo che prima cena in centro e poi dopo probabilmente una festa d'amici. Cosa farete a Capodanno? Avete un'idea? Casa, in casa, sì, sì, con gli amici, famiglia. Auguri. Ma avete scelto di passare? Stiamo parlando ora, appunto. Forse Bologna, in realtà, non lo so. Ah, quindi uscirete da Firenze? Ci sta di sì. Quindi niente concertoni a Firenze, ce ne sono diversi? No, no. Mai no? No, per me lo stavo dicendo ora. Il 2018 è stato Capodanno tutto l'anno e quindi non ho voglia forse di festeggiare. Quindi, essendo un giorno come un altro, perché spendere così tanti soldi per un giorno e poi entri il primo gennaio, vabbè, però è un giorno come un altro alla fine, no? Come passerete il Capodanno? Cosa farete? Una festa qua a Firenze. Comunque in casa o in città in giro? No, penso in casa perché fuori c'è troppo casino. Niente, siamo a casa, abbiamo organizzato qualche amico e siamo tranquilli, facciamo una festa. Niente città? No, no, no. Perché? No, c'è troppo traffico, no, no. Propriamo a casa. Io lavoro. La notte di Capodanno? Sì, io lavoro, sono in Umbre. Lei? Non lo so, non lo so ancora. C'è chi decide di passarlo in casa, in tranquillità, e chi invece sceglie le piazze per fare magari un po' di... È probabile. Meglio le piazze? Sì, sicuramente. Ci sono tanti concerti a Firenze. Sì. Ma come festeggerai il Capodanno? Al lavoro, purtroppo al lavoro. In famiglia, ecco gli amici. Quindi in casa, non in città? No, in casa, no, in centro no. Ecco, perché, perché? No, no, non mi piace, l'abbiamo fatto una volta, mai più. Scusate, una domanda. Che cosa farete per la notte di Capodanno? Ma io vo a letto. Che cosa farete per la notte di Capodanno?